Allora, Matteo Renzi, la nuova coppia della politica italiana si diceva in questo servizio. Con Calenda in passato non è un mistero, non ci sono stati sempre rapporti idilliaci. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere è questa. Ma questo è un'unione che si basa, insomma, su una reale comunanza di intenti, di ideali, oppure è un matrimonio di interesse, di necessità? Pensavo fosse amore invece la Calenda, questa è la battuta che le viene. No, Carlo Calenda e io abbiamo fatto tante cose insieme. Io ho fatto il Presidente del Consiglio e lui il Ministro. Se oggi c'è una legge che si chiama Industria 4.0, l'abbiamo fatta noi, insieme. E questa legge qua ha permesso, lo sanno gli imprenditori che non credono alle promesse, ma credono ai fatti, di assumere persone, crescere come mai era cresciuta l'Italia negli ultimi anni. Per chi segue le cose nel dettaglio, c'è un articolo oggi sul Sole 24 Ore di un professore, si chiama Marco Fortis, che dà tutti i numeri. Quindi ci sono state anche delle discussioni con Calenda, ma le nostre idee sono molto più vicine. È chiaro però che bisognerebbe fare una campagna elettorale non sulle polemiche. Ora, io non condivido ciò che ha detto Berlusconi. Secondo me Berlusconi ha sbagliato. Però che la critica gliela faccia la chi, come il PD, candida Di Maio. Berlusconi ha detto che Mattarella dovrebbe dimettersi, e secondo me ha sbagliato. Di Maio aveva detto che a Mattarella andava fatta la procedura di impeachment e il PD lo candida. Allora, siamo seri. Mettiamoci d'accordo su cosa serve. Per me serve l'elezione diretta non del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio. Cioè, come succede per il Sindaco d'Italia. Però parliamo, ognuno dica la sua, senza attaccare gli altri. Noi abbiamo detto, Calenda e Dio, Industria 4.0. Gli altri che hanno fatto il bonus zanzariere. Ma andiamo per ordine. Perché qualcuno dice, però a Calenda in qualche modo avrebbe dovuto raccogliere le firme. Questa legge elettorale, lo sappiamo, premia le coalizioni. Insomma, voglio dire, è un'unione con un progetto politico. O comunque è anche fatta di necessità, perché la politica è anche questo. Guardi i dati e vediamo se è amore o se è solo interesse. Chi è l'unica coalizione in campo che ha sempre sostenuto Draghi? Facciamo l'elenco, diciamolo. Perché io sono per l'agenda Draghi, ok? Io sto dalla parte di Mario Draghi. Guardiamo la destra. C'è la Meloni, che ha sempre votato contro Draghi. E Berlusconi e Salvini, che alla fine lo hanno mollato. Guardiamo il PD. Nella coalizione del PD c'è Fratoianni, la sinistra, che ha votato 55 volte contro Draghi. Conte non lo guardiamo nemmeno. Il 5 Stelle ha mandato a casa Draghi. Qual è l'unico raggruppamento che ha sempre sostenuto Draghi? Chi come me addirittura lo ha voluto facendo la crisi del Conte Bis? È lo schieramento, che noi chiamiamo Italia sul serio, che è guidato da Carlo Calenda. Tutto il resto, tutti gli altri partiti, hanno da farsi perdonare qualcosa. Ecco, io sono per l'agenda Draghi. Calenda è per l'agenda Draghi. Gli altri? Non è interesse, è politica. Che guiderà, l'ha detto lei, questa campagna elettorale. Lei ha annunciato l'accordo con un video sui social. Lei che fa un assist, lo rivediamo questo video. E dice che servono anche in politica gli assist. Però in questo video che fra poco il nostro regista, Donato ci propone, lei indossa la maglia numero 10. Io ora non sono un'esperta di calcio, però insomma è la maglia del leader. Allora, che ruolo avrà lei in questa campagna elettorale, ma anche in futuro in questo terzo polo? Quando si arriva a mettere davanti alla politica le ambizioni personali, si combina sempre dei pasticci. Allora, che cosa ho pensato di fare io? Io ho fatto il presidente del Consiglio, il sindaco della città più bella del mondo, che si chiama Firenze. Ho fatto tante cose nella vita. Siccome penso che questo terzo polo, che è un nome un po' brutto, ma il concetto è molto bello, serva al paese, perché c'è un sacco di gente di destra che non vuole votare per la fiamma della Meloni, e c'è un sacco di gente di sinistra che non ne può più del PD a trazione di Maio, siccome io penso che questa cosa serva, ho detto, vabbè, se per farla nascere è necessario che anziché giocare centroavanti, io giochi a centrocampo un po' più dietro, lo faccio volentieri. Perché? Perché non penso che la mia ambizione sia più grande dell'idea di costruire questa roba qua. Quindi, per chi ama il calcio, quell'assist lì, se lo rifaccio 20 volte non mi riesce, diciamo la verità. Cioè, è stato più un colpo di fortuna perché l'ho presa di esterno destro, che è una cosa che non si fa quasi mai, però se potessi fare una cosa del genere in politica, sarei contento, anche se fa gol un altro, in questo caso Calenda. Perché? Perché serve al paese. Perché non è che serve a me ormai, io, insomma, non è che sono vecchio, però sono più contento se posso dare una mano all'Italia dei miei figli che non se mi metto lì il pennacchio e la bandierina. Allora, poi tra poco vado da Alessandra Ghisleri perché mi interessa molto sapere cosa ne pensa di questo riposizionamento. Voglio però farle sentire anche che cosa ha detto proprio ieri Giuseppe Conte qui nei nostri studi. Sì, lo sentiamo a proposito di questo accordo. Quindi stiamo parlando di Renzi e Calenda? Non lo so, insomma, mi verrebbe da dire a commentare quel film, il titolo di quel famoso film Una poltrona per due. Diciamo che alla fine Calenda girano dei video in cui qualche giorno fa, qualche giorno solo, dichiarava che gli faceva orrore far politica e poter governare con chi ha cercato di sponsorizzare il rinascimento saudita. Oggi invece li vediamo a fianco. Vediamo quanto durerà, se riusciranno ad andare d'accordo almeno in campagna elettorale. Una poltrona per due, dice Conte, è così? Ma di poltrone se ne intende, del resto un po' meno. Giuseppe Conte, io posso prendere lezioni di coerenza da tutti, un po' tutti i politici hanno qualcosa da farsi perdonare in termini di coerenza. C'è qualcuno che batte il record mondiale di camaleontismo. Non c'è nessuno in Italia che abbia governato con Salvini prima per un anno e con la sinistra radicale dopo per un altro anno mantenendo la stessa faccia di bronzo. C'è soltanto una persona, si chiama Giuseppe Conte, dopodiché se Giuseppe Conte vuole parlare di rinascimento, io credo che lui faccia fatica e confonda la rinascente con il rinascimento, ma se vuole fare un dibattito lo chiami qua. E io con Conte parlo di politica estera, di politica... Quando vuole lei mi chiama e così parliamo anche perché più di mantenere la poltrona, Conte ha cambiato le idee, i compagni di viaggio, le alleanze, insomma Conte prima di parlare di coerenza dovrebbe spolverarsi la posce. Meno da lei la, sì, perché appunto cambiare campagne di viaggio ci riporta Alessandra Ghisleri a Carlo Calenda, no? Che quindi prima firma l'accordo con Letta, rivediamo anche la foto di questo accordo firmato, del bacio con Letta, eccetera, dopo cinque giorni dice no, ho sbagliato, cambia idea e va a formare il terzo polo con lei. Ghisleri, ma gli elettori capiscono queste giravolte oppure insomma è un fattore che crea anche incertezza, disorientamento. Allora, di sicuro la politica degli ultimi giorni ha creato un po' di disorientamento nelle persone, tuttavia Calenda è stato molto chiaro, nel senso che nel suo accordo con il PD e col centro-sinistra aveva posto delle basi che riguardavano assolutamente l'esclusione della sinistra e coloro che non volevano fare un traino e coloro che avevano votato contro il governo Draghi per cui lui si è, come dire, è ritirato di fronte a un progetto che era cambiato. Quindi questo è quello che sarà il nuovo racconto. Di sicuro questo progetto rappresenta una novità che era la novità che originariamente i sostenitori, prima che lui si collegasse con il PD, avrebbero comunque guardato con molto interesse, non solo la parte del corpo degli indecisi, ma anche una buona parte di quel centro-destra che magari si sentiva un po' in difficoltà nelle scelte. Poi ci dirà anche bene che importanza avrà questa quota a parte di italiani? Insomma, sono molti, più del 40% che sono ancora indecisi, sono ancora nella fascia dell'astensionismo, quindi poi torno da lei. Renzi, ma a questo punto a che obiettivo puntate? Non faccio previsioni. Io penso che, come diceva Alessandra Ghisleri, che mi pare faccia un'analisi impeccabile, non avrei mai firmato l'accordo con Letta come ha fatto Calenda, ma il fatto che egli abbia detto guardate che qui le carte in tavola le avete cambiate voi, rende molto chiaro il percorso. Adesso noi abbiamo un'occasione, un'opportunità. Siamo gli unici che abbiamo coerenza rispetto alle idee. L'agenda Draghi la sosteniamo solo noi. Siamo gli unici che rappresentano la novità di queste elezioni. Io penso che il risultato sarà decisamente superiore. E sai da cosa si vede? Ma quanto? A quanto puntate? Ah, non ne lo faccio il numero nemmeno perché poi sa cosa fa. Si esponga un pochino. No, io non me lo sono. Prudentissimo. Però le dico, sai da cosa capisco che le cose non vanno così male, anzi che vanno molto bene? Dal fatto che ci attaccano tutti. Cioè, scusi, se io fossi il segretario del PD oggi attaccherei i 5 Stelle. Cercherei di recuperare i voti a quella presunta sinistra che viene dai 5 Stelle. Invece Letta tutti i giorni attacca noi. Se fossi il centrodestra, tu mi preoccuperei di attaccare il PD e invece attaccano noi. Sa perché? Perché hanno una FIFA matta che questo nuovo raggruppamento Italia sul serio, azione Italia viva con Carlo Calenda, io ho l'impressione che vada a prendere un po' di consenso e a portare via qualche voto che poi sarà decisivo perché chi siamo noi siamo quelli che quando c'è stato bisogno in Parlamento senza pensare troppo al nostro interesse abbiamo portato Draghi e il conte. Io volevo arrivare a proposito di Draghi che evocate spessissimo l'ha fatto anche ieri la Versiliana lei ha detto se ci sono difficoltà pronti a dare una mano richiamiamo Draghi ma Draghi lo sa? C'è mai stato un contatto o comunque lo state un po' tirando per la giacchetta? Mario Draghi è un nonno a servizio delle istituzioni e non lo dico io lo ha detto lui. Lui non si è candidato lui è stato chiamato in un momento di difficoltà perché il paese era messo male grazie alla sua opera oggi noi abbiamo due documenti uno di 597 pagine uno di 675 pagine che sono firmati al Consiglio Europeo e nell'accordo tra il commissario europeo Gentiloni e il ministro Franco che rappresentano una sigla brutta PNRR che vuol dire la vera agenda Draghi sono 1300 pagine di impegni che l'Italia si è presa e che hanno un valore di 209 miliardi per le casse degli italiani allora io intanto a Draghi dico grazie dopodiché siccome vedo due alternative a ottobre il premier o lo fa Giorgia Meloni o lo fa Mario Draghi non lo so cosa pensano a casa perché glielo chiedo perché l'Eletto oggi ha precisato sì evocano Draghi ma Draghi in realtà ha dichiarato che non è disponibile ma quando io dicevo che bisognava andare a fare il governo Draghi andate a ricercarlo su internet dicembre 2020 gennaio 2021 il PD sa cosa diceva il PD faceva i manifesti dicendo il PD ha una sola parola o conte o elezioni o conte o morte e dopo un mese è arrivato Draghi e ha salvato la baracca allora io non tiro per la giacchetta Draghi dico soltanto che la partita è bene che gli italiani lo sappiano se vince nettamente la destra al governo ci va la Meloni io non la ritengo all'altezza ma se vincono rispetterò ovviamente e farò l'opposizione dal Parlamento e rispetterò la scelta degli elettori se la destra non ha la maggioranza ci sono le condizioni per riportare Draghi cosa farà la differenza? il voto a questo benedetto terzo polo chi vuole la Meloni vota la fiamma chi vuole Draghi vota il terzo polo lei è uno che di solito guarda anche oltre guardiamo per un attimo dopo il voto esclude già in partenza un possibile appoggio al centro-destra oppure invece lascia aperta una porta per me ci sono due alternative o vince la destra o si fa un governo di unità nazionale dopodiché le riforme servono io ci ho perso la poltrona sulle riforme lo so bisognerà avere un meccanismo in cui ci sia l'elezione diretta ma a differenza di quello che ha scritto la destra nel documento per me l'elezione diretta non va fatta del Presidente della Repubblica perché il Presidente della Repubblica oggi è come tornando al calcio è come se fosse l'arbitro noi abbiamo bisogno cioè ha una serie di poteri il CSM e nomina i giudici della Corte Costituzionale io vorrei che gli italiani potessero scegliere il capo del governo se oggi lei ed io fossimo candidati alternativi alla carica di sindaco avremmo una legge elettorale chiarissima o vincerei o vinco io invece alle elezioni nazionali è un caos perché non c'è questa riforma che noi avevamo proposto con la legge elettorale italica bene il mio obiettivo è scegliete voi italiani per arrivarci bisognerà che la prossima legislatura faccia quelle riforme costituzionali che hanno impedito di fare a me allora ne faccio vedere anche un titolo di oggi del Corriere una dichiarazione di Luigi Di Maio sopra poco arriva che parla del Terzo Polo di questo accordo e vi definisce in qualche modo eccoli qua dice Terzo Polo sono due estremisti che aiutano la destra due estremisti guardi Luigi Di Maio che è il signore che voleva l'impeachment per Mattarella e oggi fa finta di scandalizzarsi per le parole di Berlusconi che parlava di scafisti del mare con le frasi della peggiore destra che ha detto di tutto del PD ha detto che il PD rubava i bambini portandoli via da Bibiano con l'elettroshock questo signore qui oggi è andato a elemosinare un seggio salendo i gradini che io conosco bene del Nazareno nella sede del PD quindi prima di parlare una persona normale dovrebbe dirsi beh forse è meglio stia zitto ma attenzione nel caso di Di Maio c'è di più e io mi indigno su questo sa perché? non me ne frega niente del collegio di Di Maio se gli elettori di Pomigliano vogliono votare Di Maio contenti loro contenti tutti per me fanno un errore ma la cosa che mi fa arrabbiare e lo dico agli italiani è che in questo momento questo signore è il ministro degli esteri sono sei mesi che dalla mattina alla sera pensa al suo partitino e a come garantire un seggio agli amici degli amici nel frattempo noi abbiamo la guerra in Ucraina lui ha fatto l'ascissione il giorno in cui Draghi era a Kiev insieme a Macron e Scholz lui non si sta occupando della Libia si preoccupa di Pomigliano d'Arco e non della Libia non sta toccando palla su tutti i principali dossier internazionali dalle crescite degli estremisti in Africa fino alla questione del mare cinese allora Luigi Di Maio in teoria dovrebbe ricordarsi almeno un'ora ogni 24 che lui è il ministro degli esteri Di Maio che dice a me che sono un estremista e fa cascare letteralmente le braccia Alessandra Ghisleri quanto conta questa percentuale di italiani che è molto alta abbiamo visto insomma in vari sondaggi di incerti e anche di gente che finora dice no io mi asterrò potrebbe riaprire la partita beh la riaprirà sicuramente perché al momento almeno fino a prima di questa brevissima pausa estiva erano il 40% mediamente in tutti i sondaggi di questi c'è un 20% che sicuramente non vorrà andare a votare quindi il rimanente 20% si divide tra una percentuale che è indecisa più o meno vicina al 10% se andare a votare o meno e un'altra percentuale sempre vicina al 10% quale partito votare attenzione il dato interessante che ha stupito moltissimo è che queste persone sono indecise tra le persone non tra i partiti cioè e peraltro tra persone così opposte nei loro programmi perché la situazione è talmente sconnesse è talmente presentata in una maniera così alla ricerca dei posti che le persone dicono guarda sono indeciso nei nostri sondaggi rilevavamo tra la Meloni e Calenda tra la Meloni e Renzi tra Renzi e sempre la Meloni cioè se una volta noi sapevamo che gli uomini politici lavoravano per far grande un partito adesso i politici lavorano praticamente i partiti lavorano per far grande queste persone è cambiato il paradigma sta cambiando il ruolo e attenzione perché negli ultimi 10-15 giorni le persone decideranno per chi votare e cosa votare saranno decisive saranno sempre più aspre le battaglie ci dirà anche poi qual è il tema che di più interessa agli italiani in questo momento prima però voglio mostrarle una foto la vediamo insieme mostrare ai nostri spettatori una foto di Enrico Letta ieri ha parlato della campagna elettorale ha annunciato che farà questo tour con un pulmino elettrico che ci ha ricordato in parte il bus di Prodi ma in parte ci veniva in mente eccolo qua il camper il suo camper quello delle primarie cos'è? vuole fare Renzi 2.0? vabbè io ho fatto un fioretto di non parlare male più del Partito Democratico anche perché voglio bene al PD e mi dispiace che la strategia che il PD ha scelto quindi non farò battute su quanti chilometri può fare un bus un busino elettrico rispetto al camper o al pullman di Prodi spero che vada lontano e spero che abbia la forza di fare qualche ricarica la mia impressione però è che il PD non può dire che vuole aumentare le tasse come prima mossa scusi eh qui a questo tavolo quella brava nei sondaggi è la Gisleri ma anche lei e io siamo tranquillamente in grado di capire che se uno vuole vincere le elezioni e la prima cosa che propone è aumenterò le tasse ragazzi non è un problema di bussino elettrico per far finta di fare il verde è che dai il più grande assist non a Calenda ma alla Meloni cioè la cosa che ha fatto Letta io so che Meloni e Letta sono molto amici ma caspita non pensavo così tanto amici diciamo che è una campagna polarizzata però voglio andare giriamo la domanda alla Gisleri visto che ce l'abbiamo allora è un boomerang mi fa fare questa domanda noi siamo pieni di tasse c'è un'unica cosa che non c'è la tassa perlomeno in certe la tassa di successione ora dico si può almeno morire si può morire gratis almeno morire morire gratis ma la ridico sempre e sta perché la ridico sempre perché la gente quando mi vede dice hai ragione su queste cose ecco è un boomerang parlare di tasse o comunque parlare di una patrimoniale in qualche modo come ha fatto Enrico Letta in questo momento o no? e beh senza in qualche modo sicuramente le persone desiderano in un momento così grave in un momento così incredibilmente convulso parlare di tasse di aumento insomma di uscite piuttosto che riuscire a far pianificare agli italiani un futuro ogni italiano ogni essere umano cerca di migliorare il proprio benessere quindi da coloro che ce l'hanno buono cercano di migliorare e dai meno fortunati che cercano di raggiungerne una parte allora è ovvio che parlare di tasse non aiuta sicuramente bisognerebbe riuscire a parlare di servizi l'accesso ai servizi come la casa l'accesso al diritto allo studio l'accesso al diritto alla sanità queste sono quelle cose semplicissime che aiutano tutti gli italiani ad essere uguali perché non si può conoscere un medico per poter entrare nelle grazie di una situazione di cura ma bisognerebbe essere tutti uguali allora in questa situazione gli italiani vorrebbero essere più tutelati e quindi accompagnati dallo Stato e dal governo verso come dire una copertura un ombrello allora in queste ore c'è grande polemica anche sul simbolo di Giorgia Meloni e da sinistra chiedono un attimo arrivo subito voglio fare questa domanda c'è chiedono di togliere la fiamma dal simbolo oggi si è unita al coro anche Liliana Segre ecco qual è la sua posizione su questo? è un problema della Meloni fossi lei lo toglierei anzi l'avrei già tolto però del simbolo della Meloni io non lo voto spero che non lo votino intanto rispetto in tanti rispetto alle tasse una cosa volante quello che dice la Ghisleri è cruciale perché noi ci facciamo noi politici noi voi giornalisti e nemmeno i sondaggisti tanti film sul fatto che i simboli poi c'è un problema che a fine mese la gente non ci arriva più perché c'è una cosa che si chiama inflazione che porta al 9% l'aumento del costo della vita ogni anno allora vede quando io non è che voglio fare polemiche personali però Letta cosa ha fatto quando ha fatto il Premier ha aumentato l'IVA dal 21 al 22% Conte cosa ha fatto quando ha fatto il Premier i banchi a rotelle io ho fatto gli 80 euro mi piacerebbe che anziché giudicare soltanto sulle promesse si giudicasse anche sui risultati e su quello che uno ha fatto perché gli italiani alla fine del mese non ci arrivano più non ci arrivano più